Ma l'attenzione sull'emergenza sanitaria resta alta. Servono 30 milioni di tamponi per la diagnosi e la mappatura, che cresce anche l'allarme su come distinguere la febbre stagionale dal coronavirus. Serviranno 30 milioni di tamponi da ottobre a fine anno per far fronte all'emergenza sanitaria. La stagione invernale renderà lo scenario più complesso. La difficoltà maggiore sarà distinguere una normale influenza che ogni anno colpisce in media 8 milioni di italiani dal coronavirus. Secondo la previsione di Andrea Crisanti, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare di Padova, al quale è stata affidata la responsabilità di progettare un piano antivirus, con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative, si potrebbe arrivare fino a 3 mila casi al giorno nel solo mese di settembre. Per la prevenzione il governo ha stanziato 40 milioni di euro che verranno utilizzati per istituire 40 laboratori per uno screening di 240 mila tamponi al giorno e un macchinario per leggere e analizzare tutti i dati. Ma se da un lato il Ministero della Salute attraverso il Ministro Speranza presenterà un nuovo decreto per affrontare i mesi a venire, sono ancora troppe le differenze a livello regionale. Dal 26 al 31 agosto, se la media italiana è stata di 7 tamponi ogni 1000 abitanti, negli stessi giorni Veneto, Friuli, Emilia e Lazio ne hanno fatti fino a tre volte di più. Forte l'appello che arriva dall'ex presidente della BCE, Mario Draghi. Per rilanciare l'economia, finché non sarà trovato un vaccino, servono test di massa e poi il tracciamento può essere effettuato in seguito ai test. Queste due procedure devono diventare la normalità in tutto il mondo. E in attesa di un vaccino anti-covid e caccia a quello anti-influenzale, le farmacie infatti sono...